Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana e parliamo dell'ultima seduta d'aula e non solo, però ecco i titoli. Il programma regionale per lo sviluppo nell'aula del Consiglio, è stato illustrato questo programma per il 2021-2025. Consiglio unanime invece sulla richiesta di intercettare ogni possibilità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alle aree interne e poi quando il disegno e la fotografia si incontrano alla Biennale di Architettura a Venezia Urbanology Pinocchio Architetto. Trasformare l'impatto profondo della pandemia in un'opportunità così da aprire una fase nuova per la Toscana. Questo è lo spirito che anima il programma regionale di sviluppo 2021-2025, il documento chiave per segnare le linee per la ripartenza della Toscana. è stato illustrato in aula per uscire quindi dalla crisi ripensando i modelli di crescita e impostando il futuro per i giovani nel segno anche della sostenibilità e delle lotte alla diseguaglianza. Il piano rappresenta di fatto la svolta verso la ripresa e si propone vari obiettivi tra i quali c'è fornire una connettività veloce e di qualità a tutti i cittadini e sostenere l'innovazione tecnologica, valorizzare il patrimonio culturale e promuovere il turismo, promuovere anche l'economia circolare e i modelli sostenibili, tutelare sia il territorio che il paesaggio, favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e mettere in sicurezza tutta la rete stradale. Investire in istruzione, informazione e ricerca, garantire il diritto all'occupazione riducendo i divari di genere e contrastando quelle che possono essere sia le povertà che le esclusioni sociali e poi promuovere la salute e il benessere dei cittadini. Ascoltiamo il commento dei consiglieri, partendo però dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Io ho presentato un piano fondato su una Toscana d'eccellenza, solidale e connessa, ovvero una Toscana che cerchi di valorizzare da un punto di vista culturale, economico, sociale, quelle che sono punte d'eccellenza riconosciute nel mondo, ma dall'altro cerchi di rendersi più connessa da un punto di vista delle infrastrutture, ferroviarie, stradali, di grande collegamento nella direttrice est-ovest e nella direttrice nord-sud, valorizzando il corridoio tirrenico, ma contemporaneamente modernizzando, penso all'attraversamento dell'alta velocità o all'aeroporto che è stato proprio ieri sollecitato, quello che rappresenta il modo per connettersi oltre. Non solo sul piano fisico, ma anche sul piano immateriale, perché le connessioni della banda larga e del collegamento di aree che oggi hanno difficoltà a cogliere anche il segnale del telefono o dei social, è un obiettivo perché, lo vediamo, quando si riesce a creare la connessione, lo smart working e lo stesso sistema delle imprese ne ricevono un grande vantaggio. Però una Toscana solidale, perché lo vediamo da un punto di vista del contrasto all'emergenza Covid, è una Toscana che tende a dover investire su quello che noi riteniamo essere una priorità, il sistema sanitario con i nuovi ospedali, con le nuove case della salute, con la telemedicina che ci aiuta a far fronte a quello che è l'esigenza primaria dei cittadini, la salute. Io ritengo che il piano regionale di sviluppo possa essere naturalmente integrato da quello che è il lavoro che possono fare i singoli gruppi, i singoli consiglieri e noi alla fine del mese di luglio lo possiamo raccogliere con il frutto di queste integrazioni per una versione definitiva che sia orizzonte strategico di governo nei prossimi cinque anni. È una grande occasione perché la Toscana nei prossimi anni potrà usufruire delle risorse provenienti dal settennato 21-27 della programmazione ordinaria per quanto riguarda l'FSE, per quanto riguarda il POR, per quanto riguarda lo sviluppo regionale, a quali però si assommeranno le risorse provenienti dal PNRR, vale a dire il Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio. E quindi ci saranno risorse importanti che però dovranno essere colte. È una grande occasione per cercare anche di riunire e di riconnettere quelle tre toscane a cui fa riferimento l'IRPET, vale a dire quella più ricca, più dinamica, quella centrale, più urbanizzata, con la costa e le aree interne, che hanno maggiori difficoltà ma che hanno mostrato proprio in questa fase pandemia anche delle grandi potenzialità per quanto riguarda lo sviluppo, anche di carattere turistico. È un documento strategico molto importante sul quale abbiamo evidenziato l'importanza delle zone periferiche, delle zone rurali, dei collegamenti, della connettività, della sanità come fonte di sviluppo e nello stesso tempo come opportunità economica, perché la tenuta sanitaria di una regione determina sviluppo economico. Questa pandemia ci ha detto questo, quanto siano importanti le infrastrutture, l'innovazione, i giovani, una serie di temi importanti che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi e questo sarà un impegno importante verso il quale ovviamente il piano regionale dovrà integrare risorse comunitarie con risorse regionali. Molti dei temi li abbiamo già letti nella scorsa legislatura e ancora non sono arrivati a compimento. Io credo che sia il momento di lavorare su un piano infrastrutturale che sia volto allo sviluppo della Toscana, che unisca tutti i territori e che li renda tutti fruibili sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista imprenditoriale. Crediamo che ci sia da investire per quanto riguarda la scuola. Sappiamo benissimo che siamo rimasti indietro sul piano della qualità dell'aria, sul piano dei rifiuti, sul piano energetico perché il paera è già scaduto. Quindi abbiamo tantissime riforme da dover fare e pensiamo che serva un'accelerata perché dovevano già essere pronte e votate probabilmente l'anno scorso. Adesso arriviamo alla rincorsa, ma sappiamo benissimo che tutto questo si rende fondamentale per far ripartire la Toscana. Molte dichiarazioni roboanti, si è passati dalla parola resilienza alla transizione che si fa un po' per tutto. In realtà noi abbiamo ricordato a Gianni che la Toscana si trova messa male, siamo in stagnazione economica ormai da molti anni, siamo senza infrastrutture che ci possano rendere competitivi con le altre regioni europee, abbiamo una situazione sociale da tenere sotto controllo. È ovvio, non tutto va male, ma il Governo regionale ci deve mettere in condizioni, deve mettere il Consiglio regionale in condizioni di affrontare una discussione seria con un percorso chiaro perché i tempi del PNR sono tempi molto stretti. Entro il 2023 dovranno essere messi a gara tutti i progetti, e entro il 2026 sostanzialmente è finito tutto, pena la perdita dei finanziamenti. La cosa più incredibile che emerge è che stiamo discutendo un documento che potrebbe essere stato scritto 5-10 anni fa. Si vede che è aggiornato soltanto perché c'è il riferimento alla pandemia che ci ha colpito e ancora sta colpendo la Toscana. Quello che è il rischio fondamentale di questa legislatura è che con questi soldi, molti che arriveranno in Toscana, si vadano a finanziare dei progetti vecchi e soprattutto si farà senza un monitoraggio e senza degli indicatori. Ci sono degli obiettivi da raggiungere che come sempre sono generici, con delle modalità che sono altrettanto generiche. Tutto questo significa che semplicemente vedremo replicata sempre la stessa storia e vedremo anche magari molti progetti che fanno parte, sono appannaggio di vecchie legislature o di realtà localistiche che sono care magari al consigliere o all'assessore di turno realizzate senza una prospettiva per il futuro. Farsi carico dell'interlocuzione con il governo e per quanto di propria competenza nell'indirizzare un adeguato livello di risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per lo sviluppo delle aree interne, almeno proporzionali al peso che tali territori rappresentano complessivamente nella Toscana, ovvero un terzo dell'estensione complessiva del territorio regionale, tenendo in adeguata considerazione quelli che sono i ruoli dei comuni e le loro priorità rispetto a interventi di salvaguardia del territorio. E' quanto è stato chiesto con la risoluzione che è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Il Recovery Plan è un'opportunità storica per il nostro Paese, ma è un'opportunità storica anche per affrontare il tema della diseguaglianza tra i territori, tra i centri urbani e le aree più periferiche. Da questo punto di vista il Recovery e l'esame che abbiamo fatto in Commissione presenta molte opportunità. Il Piano Nazionale dei Borghi, la questione della connettività, il rilancio dell'attività turistica, un nuovo modello di sanità territoriale. Noi, per raggiungere questi obiettivi e per intercettare queste risorse, abbiamo innanzitutto delineato per la Giunta regionale un obiettivo. Se in Toscana, nelle aree interne, è concentrata un terzo della popolazione regionale, l'obiettivo che ci dobbiamo porre è che un terzo delle risorse che arriveranno in Toscana dal Recovery Plan siano destinate alle aree interne. È un obiettivo ambizioso, ma è un obiettivo necessario. E per raggiungerlo abbiamo delineato due obiettivi di medio termine. Il primo, la Regione si deve strutturare per dare una mano ai Comuni, perché senza progetti non si intercettano i finanziamenti. Mi fa piacere che all'interno di questo documento sia stata recepita una proposta del collega Veneri e del gruppo di Fratelli d'Italia che chiedeva di investire anche per il superamento del Digital Divide. Io continuo a sostenerlo da tempo. Una Regione degna di tale nome che vuol guardare al futuro, vuol pensare di affrontare le tematiche importanti del futuro, non può pensare che ancora oggi esista all'interno del proprio territorio, esistano aree differenti da un punto di vista della copertura digitale. Oggi siamo in una situazione per la quale due bambini che nascono oggi, che vengono alla luce nello stesso istante, uno che nasce in una città importante, uno che nasce in un comune, magari montano o magari di qualche area interna, per tutta la vita avranno opportunità differenti. Non avranno le stesse opportunità, non potranno mettersi in gioco alla pari sfruttando le stesse opportunità. E questa è un'ingiustizia che non può essere accettata in una Regione che guarda al futuro. Siccome i soldi del Recovery Fund non sono soldi che ci vengono regalati, e questo è bene che anche i nostri colleghi della maggioranza se la mettono bene in testa, perché abbiamo sentito tante volte dire «Eh, ma abbiamo questi soldi da spendere». No, abbiamo questi soldi da investire, perché 360 miliardi dei 750 che arriveranno andranno restituiti all'Europa da ora al 2058. Quindi o si fanno investimenti che da ora al 2058 riportino sul territorio dei fondi che servono poi a restituire anche questi soldi, oppure ci andremo a indebitare. E quello che oggi sembra un regalo, un domani potrebbe diventare un incubo. E lasciamo l'aula perché è stato presentato al Palazzo del Pegaso Urbanology Pinocchio Architetto, un progetto che coniuga per analogia architettura e fotografia e che sarà ospitato nel padiglione italiano alla prossima Biennale di Architettura di Venezia. Il progetto ha finito anche per coinvolgere la Fondazione Collodi, proponendo una rilettura tra disegno, architettura e fotografia delle avventure di Pinocchio. Quindi per la Biennale di Architettura di Venezia è stato prodotto un video ambientato dell'ex manicomio di Volterra. Si pensa anche a una mostra itinerante, mentre addirittura c'è stata questa speciale rilettura per grafica e immagini delle avventure di Pinocchio. Questo è esattamente l'esempio di come la Toscana può fare bella mostra di sé. È un modo per rappresentare la bellezza, la qualità della nostra regione. Ringrazio l'architetto Gasperini e la fotografa Irene Taddei per questo lavoro che porta la Toscana all'interno della Biennale e che ha la capacità di saper rappresentare anche un'idea di futuro, di come tenere insieme quello che è il racconto della nostra regione. Non è un caso che, oltre la parola urbanologi, ci sia anche Pinocchio. Pinocchio è un simbolo della nostra Toscana e l'esempio di come la Toscana viene vista e rappresentata nel mondo. In questi mesi noi abbiamo perso la possibilità di far germogliare nel nostro cuore la bellezza che solo l'arte può trasmetterci. In questi giorni invece siamo ripartiti e sono felice di poter ospitare in Consiglio regionale questo momento perché dà esattamente la rappresentazione dell'idea che abbiamo in mente. Una Toscana che vuole ripartire, vuole partire dalla sua arte, dalla sua storia, dalla bellezza, dalla cultura. Una Toscana che vuole uscire dai propri confini e vuole andare nel mondo. Il rapporto tra Pinocchio, la Fondazione Collodi e l'architettura è un rapporto, devo dire, da anni molto, molto intenso. Noi abbiamo sviluppato nel tempo un progetto approvato poi in queste stanze dal Consiglio regionale toscano, pensate un po' nel lontano ormai 2001. In questo progetto si parlava appunto di parco policentrico Collodi e Pinocchio dopo la parte architettura era fondamentale. Tanto che in un'area di questo parco che nel frattempo si è sviluppato e che sono stati acquistati diverse etter in terreno per la sua realizzazione, c'è un'area dedicata agli amici di Pinocchio dove hanno lavorato e dove lavorano architetti come Zadid, come Daniel Libeschi e Mario Botta e tanti tanti altri. È un progetto artistico, è un progetto artistico sui loghi dell'architettura, del paesaggio antropizzato e soprattutto della città. Racconta quindi di costruzioni, racconta anche di disagi urbani, racconta altresì di disagi sociali. Speriamo che questi argomenti tradotti appunto in disegni miei e fotografie di rene possano come dire dare altri spunti su questo tipo di riflessioni auspicando in un futuro migliore. È un connubio molto forte di analogie formali che vanno a raccontare quello che è l'architettura e il paesaggio in Italia e nel mondo. È nato in maniera molto particolare diversi anni fa dalla scoperta all'interno dei nostri archivi di immagini molto simili. E quindi ci siamo messi in maniera coscienziosa a vedere quanto queste analogie fossero forti. Da lì è nato il nostro progetto che è andato a crescere negli anni e che quest'anno con il nostro grande orgoglio è stato accolto all'interno della Biennale di Architettura di Venezia nel Padiglione Italia. Per noi è un grandissimo orgoglio entrare a far parte di questo progetto con la pubblicazione del catalogo che avverrà proprio a stretto giro diciamo in questi giorni. Quindi ecco davvero per noi è un orgoglio. il volume entra a far parte della collana che si chiama Arte Immagine che è una collana che appunto ospita contributi di arte e di architettura. E con questo progetto che coinvolge la Toscana il nostro Pinocchio nella Biennale di Architettura di Venezia si conclude il nostro appuntamento. Vi ricordo per tutte le informazioni c'è il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it Io vi aspetto come sempre qua tra sette giorni dentro il Consiglio e il nostro canale A presto Grazie.